L'inquinamento è stato guardato subito con sospetto perché da subito si è notato che nelle zone del mondo più industrializzate, quindi più inquinate, il Covid sembrava manifestarsi in maniera più grave. Pensiamo al caso dell'Italia, alle regioni della Lombardia, alle regioni circostanti. Ora è uscito in particolare uno studio molto interessante nel quale i ricercatori hanno cercato di valutare quante persone che si sono ammalate di Covid e hanno perso la vita si sarebbero invece salvate se non avessero trascorso l'esistenza in un ambiente inquinato. Quindi la percentuale di vittime da Covid che sono morte anche a causa dell'inquinamento. Su scala mondiale questa percentuale sembra montare al 15%, quasi una vittima su 7, con valori più alti nelle zone del mondo più industrializzate. Quindi in Nord America si parla del 17%, in Europa del 18%, in certe zone dell'estremo oriente addirittura si supera il 20%. Se guardiamo poi cosa avviene a livello delle diverse nazioni, nella Repubblica cieca sembra che quasi una vittima su 4 sia deceduta per il concorso del Covid e dell'esposizione all'inquinamento. In Germania sarebbe una vittima su 5, in Italia quasi una vittima su 7 e nella pulitissima Nuova Zelanda appena una vittima su 100.